Salve e benvenuti alla nuova puntata di Machetti Cucino Oggi prepariamo le cipolle di Nonna Yolanda Gli ingredienti sono cipolle, pane grattugiato, sale, aceto e olio extravergine d'oliva Cominciamo a tagliare le cipolle a metà con un coltello che tagli bene Ora le arreggiamo in una pentola Ora aggiungiamo l'acqua fino a ricoprirle Aggiungiamo del sale E poi mettiamo a cucinare per un'ora e mezza a due a fuoco molto lento Mettiamo le cipolle a cucinare a fuoco lento e le copriamo A metà cottura, quando l'acqua si è ritirata un bel po', si aggiungono l'olio e una spruzzata di aceto su ogni cipolla Si fa evaporare l'aceto e poi si copre per farla finire a cucinare Dopo un'ora e mezza di cottura, questo è il risultato delle cipolle Ora aggiungiamo una spolverata di pane grattugiato su ogni cipolla Ora copriamo le cipolle e facciamo cucinare per altri due minuti e il piatto è pronto Terminata la cottura, impiattiamo le cipolle Possiamo guarnire con due fettine di pane E per dare un po' di colore, un po' di carota Ed ecco qui il piatto pronto Buon appetito e arrivederci alla prossima puntata